Ok, hai ragione sempre Marco. Palombo. Cerca la conclusione. Calazze. Autogol di Cacca Calazze. Speriamo che escono cose migliori da adesso in avanti. Intanto il gol, quello di Eccol qua abbiamo rivisto. Intanto il, come dire, fra i nostri migliori attaccanti a questo punto dobbiamo inserire anche Cacca Calazze. Viva bene sulla sinistra, dentro a cercare gli acquinta. E' gol ancora di Calazze. Incredibile ma vero, abbiamo visto la seconda autoretta di Cacca Calazze. Vabbè ma ci sarà un motivo perché giochi di taglio, ci sarà una mano. In questo caso addirittura di destro, ancora in malo modo, ancora scoordinato. Non è da giocatore importante. Ha fatto un errore, ha voluto calciare. Guardate, guardate Calazze, allarga le braccia. Ma quando sei sbilanciato non c'è bisogno di calciare, puoi anche cercare di controllare sbagli. Ma almeno non commette questo errore gravissimo. No, lui lo ringraziava. E c'è scomento anche in tribuna. Sì. Li vediamo, guarda. Sì, ma lo vediamo. Lui calcia, lui calcia. Perché calci? Che sei messo male, anche questa volta. Certo che ci ha messo del suo. Cerca di controllare la pallava laterale e non rischia assolutamente nulla. Quando si vogliono affrettare le giocate, anche difensive, si commettono questi errori.